E di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a San Ferdinando di Puglia nella provincia di Barletta, Andrea Trani. La vittima è Giovanni Di Biase, 41 anni di Canosa di Puglia, la persona rimasta ferita, e un diciottenne di Cerignola, operato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Bonomo di Andrea ed ora ricoverato in prognosi riservata. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, i due erano a bordo della stessa auto guidata dal più giovane, quando per causa in corso di accertamento sarebbe finita fuoristrada impattando contro un ulivo. Il 41enne, soccorso dal 118, è morto subito dopo il suo arrivo in ospedale, sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.